Oh, bene, allora siamo qui in partenza direttamente dalla zona ristorante dove andremo a vedere oggi il percorso della navetta qui al Torre Serena. Andiamo! Andiamo, 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 andiamo! Andiamo con Arcangelo che ci porterà a vedere questo splendido percorso che viene effettuato quotidianamente più volte al giorno dalla navetta. Ovviamente magistralmente diretto dai nostri egregi autisti. In Arcangelo ci fa vedere tutto quanto il viale d'ingresso nella fantastica pineta del Torre Serena Village. Andiamo per entrare in pineta. E' una fantastica passeggiata di circa dieci minuti. Ovviamente al fresco perché sotto la pineta c'è un crema fantastico per poter raggiungere la spiaggia. Allora andiamo. Più l'altro nella pineta del Torre Serena possono dire anche i suoni di tutti gli animali della burla. tra cui uno in particolare che è quello del pappagallo Cacatua. Adesso se riusciremo a fare un po' di silenzio potremmo dire il fantastico suono del canto del pappagallo Cacatua. E' un po' di silenzio potremmo dire il fantastico suono del pappagallo Cacatua. Ma la pineta del Torre Serena è abitata anche da altri animali come cammelli, giraffe e elefanti. Un'altra specie che abita la pineta del Torre Serena è quella della gazzalagna. Quindi fate attenzione ai vostri raccogli, ai vostri portavoletti, perché questo animale è risappunto per tutti gli oggetti pieni genere. Siamo quasi arrivati in spiaggia ovviamente con la navetta. Ci vuole molto meno tempo perché facendo una bellissima massaggiata ma come potete ben vedere questo vialetto è fantastico anche per le fluorescenze arbore che presenta. Bene, siamo quasi giunti sulla spiaggia del Torre Serena Andiamo a vedere il territorio Eccoci, andiamo a visitare la spiaggia del Torre Serena Village, dopo il percorso in navetta fino ad arrivare alla spiaggia, andiamo a vedere questa bellissima distesa di sabbia qui sul Golfo del Mar Ionio. Io voglio andare a far vedere anche, vieni, 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 voglio far vedere la consistenza di questa bellissima sabbia nella spiaggia del Torre Serena Torre Serena Beach Blu Serena, da 30 anni al centro di una vacanza alta Torre Serena 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 Torre Serena